può succedere può succedere che tra un detenuto e un assistente nasta una confidenza ma come dico sempre nei carceri tra detenuti tra compagni ci sono delle regole e quelle regole vanno rispettate sinceramente anch'io se vedo un detenuto che entra troppo in confidenza con un assistente potrei pensare a male che magari riporta cose che non deve però voglio dire una cosa una persona con un fine pena mai sulle spalle mi ha insegnato una cosa mi ha detto Mirko non dare peso alle persone per il lavoro che fanno ma dai peso alla persona per quello che è e questo lo devo trasmettere a tutti a tutti quanti detenuti assistenti poliziotti persone normali tutti la devono pensare così